Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Matteo Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro, dicendo, Beati poverini spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi. Per causa mia, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei Cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore. Vorrei far predicare un futuro diacono, che avrebbe la voce più bella di mia. E poi, in questi giorni, ho visto una bella esperienza spirituale. Però, sicuramente, incomincierebbero così. La festa dei Santi è la festa del festeggiato, che è Lui, il Signore. E con Lui questa liturgia diventa anche la liturgia dei Santi. Ma è la liturgia del vivente, è sempre, in ogni liturgia, anche la più modesta o la più trascurata. Abbraccia sempre tutta la Comunio Santorum e quindi anche i Santi. E oggi il festeggiato organizza anima la festa con tutti i Santi. Il festeggiato è Lui, il Santo, e realizza il suo sogno per quello che fa festa. Il Signore, all'onore crocefisso, ha descritto la sua festa come una cena, in cui Lui passa a servire, come adesso. I Santi e le Sante non sono pezzi da museo o capolavori, semplicemente di questi affreschi, ma sono coloro che ciascuno di noi diventerà come loro per grazie di Dio. I Santi sono dei peccatori salvati. Portano un segno sulla fronte, che è il segno dell'essere figli di Dio. E hanno la veste giusta, la veste candida, la veste di chi è pronto alle nozze. Oh, c'è anche il farabutto, eh? Ci sono i farabutti tra i Santi. Adesso lo chiamiamo il buon ladrone, ma, insomma, non so se mi spiego. Ma anche molti dei Santi, diciamo, canonizzati dalla Chiesa, hanno avuto un passato devastante da peccatori. E questo realizza, promette, quello che Lui chiede, che tutti dobbiamo essere Santi, come Lui dice. Cito la lettera prima di Pietro, che aggiunge un testo del Levitico proprio in questo senso. Come figli obbedienti e figlie, non confermatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo che vi ha chiamati, diventate Santi, perché voi, in tutta la vostra condotta, diventate Santi. Poiché sta scritto, sarete Santi, perché io sono Santo. E come ci va? Come ci ha fatto Santi? Come ci sta facendo Santi? La strada è quella, anche nei momenti di persecuzione, in cui parlano male di noi, in cui abbiamo avversari che ci pestano, abbiamo degli avversari che malignano su di noi. La strada della felicità è quella che Lui ha percorso. Le beatitudini, secondo Matteo, secondo Luca, sono la strada, l'autostrada della felicità. La felicità non semplicemente che desideriamo nel nostro piccolo. La felicità è fusa e condivisa da Lui. Siete beati perché io condivido la mia beatitudine, la mia felicità, il senso della mia vita. Lo condivido. E in questa porta della santità entrano i poveri, i piccoli, i simili, gli umili, i bastonati, cioè tutti coloro che sono in esodo verso la Patria Celeste. Siamo una comunità di salvati e di santi che si incammina attraverso l'esodo, verso la Patria Promessa. E a questo punto, diciamolo, i santi non sono i perfetti, non sono quelli che hanno l'aureola, che va bene, ci vuole, ma sono coloro che con i loro limiti, i loro sconfitti, i loro fallimenti, percorrono la via dell'amore e si lasciano salvare ogni giorno. Quella via che è descritta, che è annunciata nella seconda lettura da Giovanni, no? Voi amate come siete stati amati. Amatevi come Lui vi ha amato, vi amate l'altro come io li ho amati. Ecco, questa strada semplice dell'amore che guarisce il nostro passato e insieme ci prepara questa comunione dove tutti insieme canteremo. Siamo stati delle relazioni, diventeremo un canto.